Ciao a tutti, visto che tanti di voi mi chiedono cosa farò al prossimo gennaio, vi informo che ho deciso di accettare una nuova sfida, di correre l'Africa Eco Race. Dopo 5 Dakar, in cui ho visto deserti dal Sud America, l'Arabia Saudita, al Marocco, la Tunisia, ho deciso di accettare questa sfida e di correre in Mauritania, in Senegal, per arrivare finalmente, speriamo, al Lago Rosa, dove è sempre terminata la famosa Parigi-Dakar, comunque la storica. Quindi un saluto a tutti e seguitemi a gennaio.